Tostella Piccoli Grifoni, tu hai una voce molto bella e particolare. Mi sembra orrenda la mia voce. Infatti sei sempre imitato. Ci ha provato Bollani, che è un amico dei Piccoli Grifoni, Fiorello, Travaglio. Ma tu che rapporto hai con la comicità? Con la? Comicità. Con la comicità. Beh, se mi fa ridere la trovo ottima, se non mi fa ridere la trovo patetica. E' semplice. Ah, tu dici l'ironia nei miei confronti? Come? Beh, una volta a Fiorello ti racconto questo aneddoto che è simpatico. Sappiamo che lui mi ha invitato, sai che fa quella trasmissione, faceva quella trasmissione radiofonica, quindi, sapendo che dovevo andarlo a trovare, ho studiato la sua imitazione nei miei confronti, no? Per cui, quando siamo arrivati lì, qualcuno mi fa una domanda tipo questa e fa cosa di... te ne pare dell'imitazione di Fiorello? Dico, lui sbaglia tre cose. La prima, che usa un'altezza musicale che io non esercito. Due, che mi fa un fortissimo accento siciliano. Terzo, dico che mi dà un vibrato alla Bruno Lause, che io non ho. Per cui mi dicono, e come fa? E io, no, grazie. E come fa? E io ho imitato Fiorello che imitava me, che diceva, un oceano di silenzio scorre lento, senza centro, nel principio è così.